Musica Gentili amici telespettatori benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Tele Sicilia che come di consueto apriamo con tutte le ultimissime dall'Italia e dal mondo a seguire torneremo in Sicilia per tutte le notizie di giornata a livello locale e regionale Restate con noi Venerdì all'Accademia Militare di Caracas, i funerali di Hugo Chavez Il presidente venezuelano era da tempo malato di cancro, aveva 58 anni annunciati nel paese sette giorni di lutto Immediate le reazioni internazionali Si apre una fase nuova, ha detto Obama, confermando l'appoggio degli Stati Uniti al popolo venezuelano Un uomo forte fuori dal comune, lo ha definito il presidente russo Putin In una nota il governo cubano scrive Per Fidel era come un figlio Attentato stamane contro il contingente italiano in Afghanistan Un ordigno è esploso al passaggio di un blindato dell'esercito nella provincia di Farah, nell'ovest del paese Feriti due militari, secondo le prime informazioni, non sarebbero in gravi condizioni Riunita in Vaticano la quarta congregazione generale dei cardinali alla quale dovrebbero partecipare gli ultimi cinque porporati elettori, finora assenti Ancora da fissare la data di inizio del conclave L'annuncio è atteso fra oggi e domani Stiamo facendo una scelta storica e ci serve tutto il tempo che è necessario ha commentato l'arcivescovo di Boston e la cardinale O'Malley L'Italia rischia povertà Secondo Banca Italia, per due famiglie su tre il reddito non basta Aumentano inoltre gli squilibri La concentrazione della ricchezza diminuisce tra i redditi bassi a vantaggio delle classi più elevate Dopo la carne di cavallo nelle polpette, nuovo scandalo per Ikea Bloccata la vendita delle torte al cioccolato nelle caffetterie di 23 paesi, tra cui l'Italia dopo che le autorità cinesi vi hanno trovato tracce di batteri fecali Il Real Madrid centra i quarti di Champions League battendo 2-1 fuori casa il Manchester United ma gli inglesi accusano l'arbitro Le tv locali siciliane sono le uniche in Italia a non aver avuto un rimborso per l'investimento alla tecnologia del digitale terrestre che ha distanguato gli editori Prima il governo Lombardo, poi il governo Crocetta hanno disatteso tutte le aspettative Il presidente della regione Crocetta rimane indifferente rispetto ad una situazione di agonia delle tv locali Senza sostegno all'innovazione tecnologica non ci può essere sviluppo e occupazione In pericolo, centinaia di posti di lavoro Solo annunci e niente fatti Siete pronti ad ascoltare la verità? Ma soprattutto, siete pronti a dirla? Presenta Flavia Fontana Conservava carni all'interno del suo capannone un box adiacente ad un altro in muratura dove invece aveva allestito un ricovero per animali E' stato denunciato in stato di libertà un palermitano di 35 anni residente in via Pescia dopo un controllo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo eseguito insieme ai NAS che hanno rinvenuto carni di ogni genere in pessimo stato igienico-sanitario stipati in un congelatore a pozzetto e mischiati tra loro Sono state rinvenute infatti carni avicole soprattutto pollame, agnello, interiora il tutto unitamente a prodotti ittici Inevitabile la contaminazione oltre che per il congelamento anche tra le varie carni che ha poi portato al provvedimento da parte dei militari Le indagini si concentreranno anche sugli animali trovati nell'altra zona del casolare di proprietà del 35enne che saranno oggetto di accertamenti sanitari da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Palermo L'opera denominata Chiusura dell'Anello Ferroviario di Palermo è una delle grandi infrastrutture di importanza strategica che si stanno per realizzare in città e consiste in una piccola linea ferroviaria metropolitana circolare che partendo dalla stazione Notar Bartolo utilizza il tracciato ferroviario esistente fino a Giacri e passando dall'interno della zona portuale prosegue fino al Politeama per raggiungere nuovamente Notar Bartolo con una stazione intermedia denominata Malaspina nelle vicinanze della caserma di Maria Il progetto in questione è articolato in due fasi e prevede un costo per l'intero progetto pari a quasi 250 milioni di euro La prima fase, che è quella per cui è imminente l'apertura dei cantieri riguarda la realizzazione di un nuovo tratto tra la fermata esistente di Giacri e la futura stazione Politeama con due nuove fermate una al porto e l'altra al Politeama e la realizzazione nel tratto già in esercizio della nuova fermata Libertà Tale intervento prevede un costo complessivo pari a circa 150 milioni di euro in parte finanziati dallo Stato e in parte dalla Regione con fondi europei oltre ad una piccola partecipazione di confinanziamento del Comune La seconda fase, che verrà realizzata successivamente e per la quale non ci sono ancora le risorse finanziarie riguarda l'effettiva chiusura dell'anello ferroviario con il proseguimento del tracciato dalla stazione Politeama alla stazione di Notarbartolo con la realizzazione della nuova fermata Malaspina Intervento quest'ultimo che prevede un investimento pari a circa 94 milioni di euro A regime potranno essere trasportati oltre 8.200 passeggeri l'ora che ridurranno il carico sul trasporto gommato con un enorme vantaggio anche in termini ambientali e riduzione dell'inquinamento Per l'abbio dei lavori del primo lotto mancano ormai soltanto alcuni edempimenti burocratici e lo sblocco del finanziamento già stanziato dal Cipe cui il sindaco ha sollecitato il provvedimento con una lettera inviata al Governo nazionale In questi giorni afferma l'assessore comunale per le mobilità Tullio Giuffre i nostri uffici sono al lavoro con le ferrovie e con la ditta che dovrà eseguire i lavori per individuare tutte le soluzioni tecniche volte a ridurre l'impatto che questi lavori avranno sulla vivibilità non solo la mobilità e il traffico ma anche la riduzione del rumore e delle polveri dei cantieri I cantieri avranno un impatto positivo sull'occupazione dando lavoro a circa 500 persone l'indotto occuperà a rotazione nel triennio circa 100 aziende L'anello ferroviario rappresenta un'importantissima infrastruttura che consentirà ai parallelitani di muoversi agevolmente e velocemente afferma il sindaco Orlando ed è pensato in modo tale da interfacciarsi con le altre grandi opere per la mobilità il passante ferroviario e il sistema tram anch'essi in corso di realizzazione che insieme costituiscono il sistema integrato del trasporto pubblico di massa della città di Palermo Ennesima rapina a Palermo questa volta all'interno dell'ufficio postale di Villa Tasca Calatafimi in Viale Regione Siciliana 266 Due rapinatori armati di pistola sono entrati all'interno dell'Agenzia 35 oltre l'orario di apertura da una porta d'emergenza che, stando alle dichiarazioni degli impiegati era chiusa ma che è stata aperta senza alcuna difficoltà Secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine i rapinatori hanno agito con particolare disinvoltura dimostrando di conoscere le abitudini dei direttori della posta Una volta effettuato l'accesso all'edificio infatti i due malviventi sapevano con tutta probabilità che avrebbero trovato il denaro contante nelle mani del direttore senza dover attendere l'apertura della cassaforte Così hanno messo i soldi in un sacco e sono fuggiti con una somma che si aggirerebbe sui 150.000 euro Una rapina messa a segno in pochi minuti e con un bottino così cospicuo tutto troppo facile per i due rapinatori a volto coperto Le telecamere a circuito chiuso dell'ufficio postale comunque hanno ripreso la rapina Adesso saranno visionate dai carabinieri della scientifica per cercare di trovare qualche dettaglio che possa aiutare le indagini Un colpo identico era stato messo a segno pochi mesi fa all'Agenzia di Acqua dei Corsari Tre quarti dei laureati dell'Ateneo Palermitano non riescono a trovare lavoro nell'arco di 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio È senza dubbio allarmante il dato rilevato dal Cilea il Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'elaborazione automatica nell'ambito del progetto di ricerca statistica denominato Stella riguardante la percentuale di laureati italiani che hanno trovato o meno un impiego entro 12 mesi dal conseguimento della laurea L'Università di Palermo da anni aderisce all'iniziativa e proprio dall'Ateneo Palermitano vengono fuori numeri sconcertanti Su circa 6200 laureati nel 2010 solo il 27% ha poi trovato un impiego nell'arco del primo anno post laurea mentre oltre il 24% ha dichiarato di cercarlo ancora e oltre il 43% ha preferito proseguire gli studi con un 5% che invece ha abbandonato l'istruzione Un solo laureato su 4 ha dunque trovato lavoro dato che cala sensibilmente se vengono presi in considerazione i soli laureati dei corsi triennali appena il 21% mentre oltre il 50% ha scelto di proseguire gli studi dati in controtendenza anche nelle facoltà dallo sbocco occupazionale diretto come medicina dove il 61% dei laureati ha trovato impiego ingegneria con il 30% dei laureati già con un lavoro nell'arco di un anno ma con un 74% dei laureati triennali che ha scelto di proseguire con la specialistica è giurisprudenza dove solo il 9% è riuscito a trovare impiego post laurea mentre oltre il 75% ha scelto di proseguire negli studi dati oltremodo significativi per l'Ateneo Palermitano soprattutto se comparati con quelli dell'Università Pubblica milanese dove ha trovato lavoro solo dopo un anno oltre il 42% di chi si è fermato alla triennale e addirittura il 65% di chi è continuato con la specialistica in sintesi il doppio dei laureati palermitani Un forte vento di scirocco sta creando disagi e danni in tutta la Sicilia a Palermo ed in alcuni comuni della provincia decine le chiamate giunte centralini dei vigili del fuoco la maggior parte delle richieste riguardano al momento alberi abbattuti cartelloni pubblicitari e pali divelti lungo alcune sedi stradali squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in alcuni quartieri di Palermo vento di scirocco che ha interrotto anche i collegamenti marittimi con le isole minori fermi infatti i traghetti e gli aliscafi in partenza da Palermo e Ustica così come tra Porto Empedocle Lampedusa e Linosa e tra Trapani e Pantelleria interrotti anche i collegamenti con le isole Olie disagi all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo inoltre che è rimasto chiuso dalle 8.23 alle 8.59 alcuni voli in arrivo nel capoluogo siciliano sono stati dirottati su Trapani e Catania in partenza si è verificato solo un ritardo di un'ora per un volo diretto a Roma che comunque poi è partito i passeggeri dei voli dirottati in arrivo in partenza da e per Palermo saranno accompagnati comunque con una navetta l'aeroporto di Pantelleria invece rimarrà chiuso fino alle 12.30 a causa del forte vento ieri notte le raffiche di Scirocco hanno raggiunto i 100 km orari provocando danni di notevole entità nella nuova aerostazione inaugurata la scorsa estate pannelli sono volati fino a raggiungere la caserma dei vigili del fuoco l'ENAC ha disposto controlli per vedere se ci siano le condizioni di sicurezza per riaprire la struttura ai passeggeri interrotti da tre giorni anche i collegamenti marittimi con Trapani pioggia battente e raffiche di vento stanno interessando soprattutto la provincia di Messina dove si registrano disagi alla circolazione stradale lavoraggine sorta al chilometro 135,9 sulla strada statale 115 a vita breve domenica prossima 10 marzo avrà luogo la consegna ufficiale dei lavori di ripristino del ponte Verdura la strada statale sud-occidentale Sicula in provincia di Agrigento all'impresa affidataria Gingemi Carmelo di Tusa proveniente dalla provincia di Messina dopo gli ultimi incontri svolti ieri i consulenti della procura di Sciacca e tecnici della soprintendenza dei beni culturali di Agrigento hanno definito le modalità di intervento da adottare per la rimozione e l'accantonamento delle parti del viadotto interessate dal crollo e nella disponibilità della procura tali attività preliminare all'inizio dei lavori di ripristino saranno espletate salvo avverse condizioni climatiche entro sabato 9 marzo già iniziati gli accertamenti da parte di una squadra di operai dell'ANAS con diversi mezzi meccanici vicino alla porzione di strada crollata per due giorni una macchina perforatrice ha realizzato dei sondaggi per accertare lo stato del terreno e della parte del viadotto rimasta eretta e dopo l'apertura del cantiere si spera venga rispettato l'impegno assunto nel vertice tecnico che si è tenuto nella prefettura di Agrigento che è quello di realizzare in via provvisorio il nuovo ponte con grossi tubi e cemento che attraverserà il fiume Verdura entro 40-50 giorni al massimo grazie ad un cantiere attivo 24 ore su 24 un rifacimento estremamente atteso sia dai cittadini che dagli amministratori comunali dei paesi interessati dalla frana e dal blocco della circolazione stradale vi è molta preoccupazione per il comparto dell'agricoltura in special modo il mercato delle arance in quanto in molti operatori di questo settore continuano a lasciare i tipici agrumi ribresi sugli alberi e questo con tutte le ripercussioni del caso da Catania il consiglio di Confindustria Sicilia Alberghi e Turismo rilancia le proposte tendenti alla riorganizzazione del settore attraverso proposte precise indirizzate ai governi nazionale e regionale per il presidente dell'associazione italiana Confindustria Alberghi Giorgio Palmucci occorre puntare soprattutto sulla riduzione della fiscalità definita eccessiva e dunque una minaccia per la sopravvivenza di tante imprese Intervenire rapidamente sulla fiscalità che sta diventando un peso insopportabile non soltanto per i cittadini italiani ma anche quindi per gli albergatori e quindi in particolar modo il peso insopportabile dell'Imu e adesso con l'introduzione anche della tassa della Tares che avrà un ulteriore impatto su quello che sono i conti economici delle nostre aziende Lei ritiene che oggi il pacchetto turistico Italia sia sufficientemente promosso e valorizzato? Assolutamente no nella maniera più assoluta io ritengo che ci debba essere una revisione di quello che è il famoso titolo quinto della Costituzione in quanto è assolutamente necessario che per la promozione ci sia una regia molto più nazionale quindi che la proposta del prodotto italiano venga fatta in maniera più incisiva Per Ornella Laneri presidente di Confidustria Sicilia del settore alberghi e turismo esiste già una piattaforma di proposte da sottoporre al governo della regione siciliana di chiedere fortemente alla regione di dirci di farci sapere quelli che sono i progetti i macro i progetti che la regione ha per rilanciare il turismo di contro noi nella nostra positività Confidustria Sicilia alberghi e turismo non è ferma sta lavorando su progetti importanti legati all'accessibilità nell'accezione ampia del termine che va dalle diversità diciamo dalle disabilità alle intolleranze alimentari fino alle famiglie con i bambini stiamo lavorando su progetti importanti che coinvolgeranno tutti gli alberghi di Confidustria Sicilia alberghi e turismo di Confidustria Sicilia alberghi e turismo di Confidustria Sicilia 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 di Confidustria Sicilia